Senti, adesso facciamo un parallelo tra Italia e Francia, la Francia tu la conosci molto bene, no? Allora, ci sono differenze, tu vedi delle differenze tra teatro italiano e teatro francese e comunque cosa è cambiato negli ultimi 20-30 anni nel teatro italiano? Il italiano? Anche i francesi hanno una grande tradizione, no? Sì, ma dobbiamo dire una cosa, che i francesi sono stati anche influenzati dagli italiani, diciamoci la verità. Certo, è vero, è vero. Partiamo da Molière, Molière già attinto qui, perché Molière rifiutava questa cosa dell'apparire, ma lui nel giocare, nella leggerezza, diceva delle cose, toccava delle cose, cercando una libertà dell'essere. Perché si dice la bohème, no, Molière cercava qualcosa che non si può definire, perché se lui avesse voluto essere benestante e tutto, aveva tutto, dall'eredità del papà, ma rifiutò questo. Ed è per questo che Molière venne qui in Italia, ha attinto tanto, tanto, ma non ha mai detto questo, quello, quello. No, cercava di toccare soprattutto le cose che vediamo nel quotidiano. E come dice un grande attore francese, Molière, ci ha aperto una finestra socchiusa sul quotidiano. E questo è molto forte. E da lì che, per esempio, quando lui ci ha mancato, anni dopo, secoli dopo, Antonio Arto lo disse, io vado alla ricerca dell'impossibile. Ma cosa interneva? Perché lo diceva questa cosa qui, la comedia francese, che non c'era più teatro, non sapeva, faceva delle cose, non si capiva. Ma che cosa volevano dire? Perché lui aveva bisogno di questa realtà, di questa cosa che chi guarda si nutre. Si nutre con questo senso che l'ha vista. Ma non era lì, ma si nutre, può divertirsi, può vivere qualcosa. E il suo sguardo non giudica, ma è un sguardo che va a cercare, perché la persona ha fame di qualcosa, lo spettatore. Non è lì solo perché io sono stanco, vado là per ricaricarmi. No, no. Ed è per questo che c'è, questa cosa qui. Quanto al teatro italiano, e mi dispiace molto, molto, perché la base dei miei studi viene dal teatro italiano. Cioè, c'è un esempio, non parlo della comedia dell'arte, ma la comedia all'improvviso, che è la base di tutto. In quei tempi andavano sulle piazze, c'era una fiera, e là qualcosa nasceva. E immediatamente c'era. Si improvvisava. Questa spontaneità, è quello che ha influenzato anche Brooke. Il rapporto all'Europa, il rapporto all'Africa. Lui è andato verso il cantastorie, perché ha trovato due cose, due poli, che possono completarsi. Assolutamente. Per questo che non c'è una differenza. L'università del teatro viene da questo corso, da raccontare, arrivare a catturare l'attenzione dell'altro, chi guarda, e anche chi vive la cosa. Ma tu pensi che questo sia avvenuto meno adesso? Dipende, perché alcuni attori... Anche rispetto a quando tu hai iniziato, è cambiato qualcosa? Beh, in quel senso? È cambiato anche nel modo di fare l'attore? Assolutamente, ma beh sì, perché oggi si deve lavorare nella velocità. Certo. Non è più come per esempio negli anni 70-80, in cui si prendeva un tempo per veramente arrivare a metabolizzare, affinché un spettacolo... Adesso è tutto troppo veloce. Troppo, troppo. Anche influenzato anche dalla civiltà della comunicazione, no? Sì, sì, perché lì un spettacolo nell'arco di qualche... No, non è possibile. Lo è, ma non lo è. Tutti dipendono dalla disponibilità che hanno le persone. Sì, siamo disponibili. Si può fare, perché questo esisteva già. Nel senso che viene dall'Europa. Partiamo dalla Polonia. No, sì. Perché nell'arco di dieci giorni in Polonia, si faceva un spettacolo. All'interno di una famiglia, lo zio scriveva, la zia... e hop, distribuzione, bam! E là nacque il termine compagnia. Da loro. Da loro. È stato cognato proprio... Assolutamente. Ma è compagnia, perché va verso come un matrimonio. Certo. E quindi ci sono delle risonanze, degli ecchi. Per esempio, abbiamo delle influenze, che sia l'Europa che ha influenzato l'Africa, e viceversa. Abbiamo, eh. L'essenziale è come la persona deve raccontare una storia che riguarda tutti quanti. Bene. Senza tenere conto della provenienza di questo paese, di questo continente. Non ti entra niente. Senti, una delle ultime domande... Tu, ovviamente, sei a contatto con tantissimi giovani, tantissimi ragazzi che vogliono migliorarsi in questo mestiere. Ecco, cosa ti piace di questi ragazzi? Cioè, vedi il loro... Veramente, cioè, che hanno questa luccicanza, no, negli occhi? Questo shining, diciamo. Sì, ma c'è una cosa. Parto da una cosa. Perché questi ragazzi, per esempio, quando a volte... Non dico tutti. Alcuni si vede che non hanno punti di riferimento. Già. Non è che Mamadou sostituisce il... Come si dice ancora? Il medico, non so. Ovvio. No, no, non è possibile. Ma questo incontro. Perché alcuni vogliono fare il teatro, tanto per fare. Eh no. Perché vogliono esistere. Questo già si deve percepire. Dal momento che la cosa è percepita, ok, ora lavoriamo. Anche lavorando su questo, tu puoi esistere. Ma non... La cosa non deve diventare una cosa ossessiva. Ossessiva, sì. La lavoriamo. Facciamo vivere questa cosa. Cosa ora si scatta dentro di te. Dimmi. Perché io non posso dirti, devi farlo così, devi farlo così. Non è normale, non è sano. È come io mi sostituissi a lui o a lei. Tu vedi che c'è troppa ansia? Sì. Di arrivare, di arrivare di troppo presto. Ed è per questo parlavo di questa cosa di, di, come si dice ancora, non trovo la parola, di non avere un appoggio. Ok. Un riferimento. Un riferimento, un punto di riferimento. Ma, ciò non mi impedisce di andare avanti. Certo. Perché per me è un incontro umano. Umano. a chi mi interessa. Vai. Cosa? Io non potrò mai dirti questo o quello accadrà. Lavoriamo insieme. Facciamo tanti errori. Facciamo chi? È una ricerca. Se avessi... Però bisogna mettersi a disposizione. Assolutamente. Ok. Senza, perché se per esempio, conoscendo il mio carattere, perché vi dico sempre, ho un carattere di vacca. Vuol dire che... Sarai, assolutamente esigente. Beh, sì. È ovvio. È una cosa che mi hanno insegnato, l'esigenza, perché... Ma prima devo essere nei miei confronti. Perché se non lo faccio... Non saresti un buon maestro. Eh, no, ma... Sarai un bugiardo. Certo. E non quello che cerco di chi... Quindi, con i ragazzi, c'è questo incontro. La persona. Tu. Qualcosa. Tu l'hai dentro di te. Perché nessuno è venuto a dire io voglio fare il teatro. Così. Perché non è né un rifugio, come è stato scritto, né un scappatoio. Chiaro. Anzi. Lì mi metto sotto la luce dei... Devo mettermi in gioco. Con le mie difficoltà. Non è di cercare di essere il primo della classe. Non esiste. Non esiste. È da lì che man mano i mezzi possono venire. Ma lavorando. Quello che facciamo è provvisorio, quel giorno lì. L'indomani vediamo qualcosa. Ed è per questo che abbiamo questa cosa che è geniale a teatro. perché al cinema facciamo un ciac e per sempre. Mentre che al teatro abbiamo toccato una cosa. La cosa è provvisoria. Domani cerchiamo di raffinare. Come lo scultore che non si accontenta e non può scolpire così e finita. No. Ogni cosa. I lineamenti hanno un senso. Sono le emozioni che lui mette dentro la materia. e quindi è la stessa cosa. E la cosa è evitare quando uno divise di schiacciare chi è davanti a te. Perché il rapporto è... Rispetto. Assolutamente. E non è facile. Non lo è. Non lo è. Bisogna dirlo perché come dicevo prima l'incontro con l'altro soprattutto abbiamo delle differenze. Come possiamo comunicare. E questo pontifex questo ponte come costruirlo. Che è un punto d'incontro. Questo è primordiale. Non è facile. Io posso confessarlo. A volte mi trovo davanti delle difficoltà. Ci sono delle resistenze. Anche rapporto a me. Sì, sì. Personal. Personal. Individuali. E là devo allontanarmi di me stesso. Per forza. Esco, fumo la sigaretta, faccio di chi. Poi mi riprendo. Perché se non lo faccio non va. Certo. Se no accontento la persona cerco per quanto è possibile di rassicurarla. E là cagliamo nella mezzo.